Buona giornata, spesso e volentieri cerchiamo il momento giusto per fare una cosa, il momento propizio. Cerchiamo e attendiamo a volte con grande speranza o con grande attesa il momento giusto. Forse il momento giusto non so se esiste veramente, forse a volte è più onesto dire in certi momenti cosa voglio o cosa non voglio, mi decido o non mi decido, ma aspettare il momento giusto spesso e volentieri si rischia che sia un'attesa diciamo così vuota, a volte senza senso o riempiti da fantasmi e castellinaria. Certo non è così facile avere le idee chiare su tutto, però iniziare a fare discernimento su cosa voglio o non voglio a volte può essere utile per questa decisione che è forse il momento propizio per farla. Il Signore ti illumina e ti benedica, buona giornata. Grazie a tutti.